Progetto Elite Progetto Elite Progetto Elite Quest'esperienza di questi mesi nell'ambito del progetto Elite sono stati davvero motivanti. Nel senso che è bello partecipare a un progetto dove ci sono aziende che vivono di valori e di crescita e che hanno la voglia di fare, di condividere. Non è sempre facile oggi in Italia trovare aziende di questo tipo. Progetto Elite per noi è stata una fantastica avventura. Allora siamo a metà strada, all'inizio eravamo un pochino spaventati perché da piccola a media impresa con dei buoni fondamentali però non ci eravamo mai confrontati con il mondo finanziario, istituzionale e finanziario. Quindi per noi è stata un motivo di confronto, un'occasione di confronto di poter cominciare a vedere quali sono i nostri punti deboli che non avevamo mai preso in considerazione e questo si prende come spunto di miglioramento. Quando mi hanno proposto di entrare nel progetto Elite ero tritubante perché pensavo che non potesse fare proprio del tutto a nostro caso però ho davvero cambiato idea. Se volete il mio parere e se avete ovviamente un progetto di crescita interessante se avete le idee chiare su quello che volete fare nel futuro e pensate che la borsa sia il luogo in cui si possono realizzare, si possono finanziare i vostri sogni, i vostri sogni di sviluppo della vostra azienda, venite e venite con tranquillità. In Elite abbiamo trovato una piattaforma, un supporto, una best practice, un training, un insegnamento per tutto quello che c'è da guardare per innamorarsi meno del prodotto e per capire come difendere il prodotto e azienda da quello che succede fuori e come proporsi. Elite ci ha insegnato a comunicare meglio, ci ha insegnato a gestire il credito meglio e gestire il credito di questi periodi vuol dire comunicare bene. Ci ha insegnato a strutturare l'organizzazione nel modo più efficiente possibile. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.